William Crookes Sir William Crookes, 1832-1919, chimico e fisico britannico, scopritore dell'elemento taglio, dei tubi a raggi catodici, i tubi di Crookes e del radiometro, presidente della Società per la Ricerca Psichica di Londra, acuto, studioso di alcuni tra i più famosi strumenti del suo tempo, tra cui David Douglas Holm e Florence Cook, fu autore di varie opere sul paranormale, tra cui indagini sperimentali sulla forza psichica e ricerche sui fenomeni dello spiritismo. Commento Nelle enciclopedie laiche Crookes è conosciuto per le sue scoperte scientifiche, ma sconosciuto come importante pioniere del paranormale. Crookes iniziò la sperimentazione scientifica con gli strumenti. Come spiegano i maestri immateriali, non era tempo, e anche adesso non è ancora tempo, per l'accettazione massiva dell'ipotesi medianica. Come spiegano i maestri immateriali, non era tempo, ma sconosciuto come iniziò la sperimentale. Come spiegano i maestri immateriali,